Come uno spettatore Centro spirituale frattocchie, attraverso flora, a cura di VB, guida. Tutto ciò che non arricadanno al nostro prossimo deve essere classificato nella sua interezza e poi portato nelle azioni pensiero. Così si può in parte conoscere il nostro vero essere che, come uno spettatore, deve misurarsi in ogni pensiero e considerare ciò che può produrre l'azione pensata. Occorre anche per conoscere se stessi migliorare l'anima, avere la fede in Dio, la quale comporta l'onestà dei propositi da mettere in atto, la fratellanza inerente a questo e il vero amore per tutte le creature viventi. Questa conoscenza del bene e del male deve penetrare nell'uomo per la distinzione netta tra loro affinché vi sia la possibilità di purificare l'anima-spirito. Così operando l'uomo, quando lascerà il corpo fisico, potrà coscientemente inserirsi in quella via luminosa che lo condurrà nelle vicinanze della vita eterna a godere quanto si è meritato. Dio estende a tutti la sua grazia, purché se ne sia degni. Dio dà amore a chi amore ha dato, perdona chi ha perdonato e concede la pace a chi ha cercato di operare secondo le sue leggi. La materia che abbiamo, quale rivestimento dell'anima, serve per rendere felice lo spirito tramite le esperienze acquisite anche con il libero arbitrio, da Dio concesso all'uomo, secondo quanto già detto qui in precedenza. Grazie. 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 Grazie.